Amministrative 2023 risvolte sul nuovo sindaco da sapore amaro comico come la politica siracusana. Vergognatevi! Renata Giunta Catanese, candidata a sindaco di PD Grilin e Sinistra Sparsa, è stata la consulente del sindaco del CGA e dell'assessore spingitore per Siracusa Capitale della Cultura, quella brutta avventura che ha coperto di ridicolo la nostra incolpevole e bellissima città. Così in una nota sul sito dei fatti di Salvo Benanti si scoprono gli altarini della decantata loro candidata dalla purezza del fallimento. Come dire che oggi i sinistri e i grillini vorrebbero battagliare e vincere con il sindaco del CGA con una candidata che era la sua consulente e che non è riuscita nemmeno a dare un contributo per la vittoria di Siracusa e per non riuscire a vincere con Siracusa una competizione così modesta ce ne vuole. Ma ecco il progetto di cui parliamo. Denominazione Siracusa Sud-Est 2019, progetto di candidatura della città di Siracusa a Capitale Europea della Cultura 2019. Committente del Comune di Siracusa. Cosa ha fatto Renata Giunta da consulente? Leggiamo cosa dice l'interessata. Finalità e contenuto dell'intervento, componente del gruppo di lavoro per la stesura del dossier di candidatura della città di Siracusa e del territorio circostante a Capitale Europea della Cultura. In particolare mi sono occupata di coinvolgimento del partenariato pubblico-privato, organizzazione di eventi di promozione presso istituzione del territorio, cittadinanza, privato sociale, artisti, componenti del Comitato d'Onore, stesura di accordi di partenariato, selezione dei progetti culturali inseriti nel dossier, con il coordinatore dell'ufficio programmi complessi della Comune e definizione delle strategie di impostazione del dossier e strutturazione nel programma di interventi materiali e immateriale di accompagnamento al 2019 e stesura del dossier di candidatura. Non entriamo nel merito del costo, ma il risultato è stato scadente, battuti da Pesaro, che sarà magari amministrata bene, ma che non può certo competere con Siracusa sotto ogni punto di vista. E oggi, dopo questa figuraccia, dovrebbe essere l'avversario di chi l'ha nominata consulente? Certo che i sinistri sono strani, molto strani, magari cercano solo un risultato accettabile, poi tornare dal milanese Italia, un ennesimo inciucio ai danni della città. Al momento, come abbiamo già detto, l'unico rimedio che resta è quello di votare i seracusani. Milanese, nisseni, catanesi e altri non seracusani, dopo dieci anni di mostruosità, vanno accantonati. Quarzo, arriviamo da dieci anni di massacri e Siracusa è ultima in Italia con l'aspetto di una città che è appena stata bombardata, conclude Benanti.